Una professione in prima linea, a contatto diretto col paziente, un vero e proprio front office che deve rispondere prima battuta a chi soffre. Parliamo della figura dell'infermiere, che come categoria lavorativa è rappresentata dall'Opi, l'Ordine degli Infermieri, che solo in provincia di Lecce conta oltre 7.000 iscritti. L'Opi di Lecce ha in cantiere in questo periodo una serie di convegni, dei temi interessanti per la categoria stessa e di pazienti. Quest'anno è l'anno internazionale dell'infermieristica e quindi la Federazione Nazionale degli Ordini delle Protezioni Infermieristiche, la FNOPI, che raccoglie tutti gli ordini provinciali, 102 ordini, che sono dislocati sul tutto il territorio nazionale, di rendere omaggio alla figura di Florence Nightingale, che è stata la pioniera della nascita dell'infermieristica moderna e quindi ha messo in atto una serie di eventi celebrativi proprio per commemorare il bicentenario della nascita di Florence Nightingale. Quindi ci saranno degli eventi a Firenze, dove in Santa Croce c'è proprio l'edicola funeraria, ci saranno dei gazebo, ci saranno degli eventi formativi e anche dei video per comunque risaltare la figura di Florence tracciando tutto quello che è stato il suo percorso in Italia, perché è stata diversi anni. Quindi noi come OPI di Lecce saremo presenti a Firenze con un gruppo di nostri infermieri e poi anche a livello locale metteremo, come ogni anno, in atto delle iniziative, tra cui un evento formativo, la consegna di pergamene e targhe a chi si è distinto nella professione infermieristica, in quanto in passato ha già ricevuto un encomio. Poi abbiamo pensato anche di rendere omaggio a Florence Nightingale in provincia di Lecce facendo delle richieste a diversi comuni, laddove ci sono state scuole infermieri, ma anche attuali corsi di laurea, per cercare di intitolare una via, una strada, una piazza in memoria proprio di Florence Nightingale per commemorare il bicentenario della sua nascita.